Dopo una seduta a fiume durata oltre 12 ore ed un lungo dibattito, il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato le linee programmatiche del Sindaco e il bilancio di previsione 2017 con 22 voti a favore, 6 voti contrarie e l'astenzione del consigliere Enzo Paolini. Il primo punto all'ordine del giorno riguardante le linee programmatiche del Sindaco ha impegnato l'assise per tutta la mattinata. Il primo cittadino infatti per oltre tre ore, supportato come sua consuetudine da numerose slide, ha illustrato quanto il suo esecutivo si propone di fare nei prossimi cinque anni. Tra i punti fondamentali c'è il contrasto alla povertà, la riqualificazione dei quartieri periferici con particolare riguardo per il centro storico e la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, puntando sulle risorse strutturali e quelle turistiche offerte dal territorio. Per il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale continuare nelle buone pratiche, incrementare la raccolta differenziata, lo spazzamento anche delle strade secondarie, la cura del verde e degli altri servizi per i cittadini. Intendiamo migliorare ancora di più questi servizi e con questo avvalerci anche dei lavoratori che fanno già parte delle cooperative sociali e anche quelli che lavorano all'interno del servizio di raccolta dei rifiuti. Quindi in questo modo finalmente riusciremo questa volta ad aumentare anche le ore di lavoro e consentire loro di avere adesso una situazione di vita migliore e quindi completare quell'azione che abbiamo fatto nei cinque anni di legalizzazione del settore e anche di miglioramento di tutti i servizi a favore dei cittadini. Per realizzare gli obiettivi prefissati è necessario avere le risorse ed è per questo che contestualmente è stato presentato anche il bilancio di previsione. Il primo dato quando si presenta un bilancio di previsione è semplice, grazie a questo strumento noi riusciamo a realizzare il programma che il sindaco ha presentato stamattina. Vi sono due elementi da sottolineare, non cresce la tassazione che è il primo elemento basilare, Cosenza e soprattutto in Calabria ma in tutto il territorio nazionale è uno dei comuni dove si pagano meno tasse sia relativamente all'utenza idrica sia relativamente alla cosiddetta TAVI, quindi il servizio di igiene urbana. Questo è bene precisarlo perché ho letto di polemica in tal senso, siamo uno dei comuni dove si pagano meno tasse d'Italia. Poi l'altro elemento fondamentale appunto è il fatto che noi abbiamo inteso l'avvio ad interventi soordinari di manutenzione del territorio cittadino e soprattutto abbiamo inteso investire ulteriori somme sulle politiche sociali. Cosenza spende circa 140 euro pro capita cittadino rispetto alle cosiddette politiche di welfare, la media nazionale è 117 euro, abbiamo fatto tanto, abbiamo aumentato la lotazione dei capitoli soprattutto sull'emergenza abitativa, si deve fare di più ma siamo enormemente soddisfatti di quello che abbiamo fatto.